Senz'altro, esclusivamente parlando, ti senti più abitudini, perché la grazia del Signore, che sta in noi, non parte di diventare sempre di più, questa risposta si è riuscita a questo di noi. Quindi cerco di non avere questo impegno, di venire sempre insieme, sempre insieme. Sessant'anni di sacerdotio ci dicono anche tanta saggenza. Cosa vogliamo dire ai nostri spettatori e soprattutto alle giovani generazioni? Senza, bisogna fare un certo cammino, appunto per avere più e più di anni a seguire i sistemi. Il cammino qual è? Conosce un'acqua di Dio, con la scienza di diventare, dietro il premio, e di diventare partecipare alla comunità, soprattutto nella comunità, e quindi per inserirsi del livello della comunità. Se questo si fa, senz'altro, e se invece ci fa sentire dentro una voce quattro ore, e vi seguiremo lì, con più giocità e con più delazione. Grazie. Grazie.